Ecco i nostri felini, i nostri ragazzi, ecco, tutti scattanti, Alessio, adesso è partito Lele, adesso è partito anche Antonio Costantini, adesso è partito Michele, Michele, ecco Cristian, Cristian, ecco riparte Teidi, riparte Gabriele, riparte Guido, riparte Renzetto, riparte Caran, Riccardo, Amedeo, Bartolo, Alessio, Nicola, ecco Nicola con la sua falcata, guarda Guarda come si porta Nicola, ecco Lelelelelelelelelele, Antonio, sembrano sevi, no, felini nella savana, guarda Guido, guarda Guido, guarda Renzetto, Renzetto, Caran, Caran, Riccardo, ecco Michele, Cristian, Amedeo, Bartolo, Alessio, Nicola, Lele, Antonio Costantini, adesso riparte Teddy, Teddy conclude il suo percorso, qua anche Gabriele, Guido pure, Renzetto, Caran, Riccardo, Michele, Cristian, Bartolo, Amedeo, Antonio, Alessio, Nicola, Lele. I ragazzi hanno effettuato un altro tipo di esercizio disposto dal mister, oh arriva un cane, non vorrei che quello che lascia, non è lui, non è il cane, come lo fai ora, non è quel cane, no è bianco, è bianco, oh se mi fai una fotografia, proprio preso il corpo del reato, 10 euro, se mi fai una fotografia, 10 euro mi devi prendere in fragranza, no no non 10 euro, un gelato a tutti, oh lo sai, se lo vedi lo sai fare, viene bene se fai uno spettone di video, si, 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 effettivamente scusate questa che mi sono, sono passato un altro discorso, ma effettivamente da un bel po' di giorni troviamo sempre dei bisognini di cane proprio su questo terreno di gioco, sparsi, sono stati già fotografati, là ce n'è un altro, non ce l'ho con il cane, ma con il padrone o la padrona, ho messo una taglia, ho messo una taglia, a chi lo scopre, ho messo una taglia di 10 euro, a chi scopre il cane, ho messo una taglia di 10 euro, a chi lo fotografa o gli fanno un spettone di video.